Per esempio, qui c'è una storia vera di una testa, Fransico Gokov, un uomo che è sempre andato a giustizia, ma non ha la giustizia intesa nel senso di fare il giusto, ma nel senso di giustizia è andato alla magistratura, avvocato, e quindi un uomo di una verità particolare. E un giorno vieni in Trullallera, lei ha avuto una Buddha a San Muzello, e non ha avuto una cosa. Come? Tanto una Buddha aveva valore. Una Buddha aveva un'economia domestica per me, tutti avevano 7-8 Buddha, su, mandicaici, quindi una cosa che prima avevano una Buddha avevano una Buddha, nel senso che avevano un paese sozzoso, dovevano accampare, che avevano una Buddha, avevano una grava, che avevano una Buddha, e quindi tutti, che avevano una Buddha, insomma, si ripresa la Muzello, accoppiò io, una Buddha più mancata. e mi diceva, ah, la Buddha è buona, perché non è che si tratta. E io mi diceva, no, ma questa Buddha, proprio questa Buddha è arranginata, una chiesa mezza che veniva. E io mi diceva, ma, eh, adesso ci sono cose, e questo è tutto guvato, no, guvato, che non ha il senso di colpa. E poi mi diceva, ah, adesso ci sono cose, perché la Buddha mi manca, mi sono messo a lavorare, perché non è la bestia sul luogo, non è nuda, quindi mi manca la Buddha, e poi entrano, non è un'altra cosa, e poi si impreggeva, e poi si spingeva, ah, 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 a Sarvino si incassa una cacchiera, si ha manteccato questa p***a e si lo manda su male manteccatore e dice, ah, che è buono che so te, Anacchie e subito a temico, si dice, ah, che è buono che so te è bene tutto un'altra è denunziata su Gornato con un entrale il fratello di San Muzello è sempre denunziata, è sempre denunziata per ogni cosa più denunziata tanto è bene che da voi l'hanno imparato non l'hanno più, l'hanno imparato da voi c'è da voi proprio i due vini, subito ai due vini cammina in fontana, usando un'altra cosa io sicuro, che è da voi e l'hanno imparato su Bacconi a Sarvino di Notte vedi, cari, con ogni cosa che viene in giustizia ha rinunziato su Gornato con un entrale mi pare che la sentenza del Consigliatore mi pare che la sentenza del Consigliatore fin si sa poco cosa fin si sa fin si sa canno l'hanno eliminato il Consigliatore vi cosa fin si sa un milione del valore si occupa i primi a arrivare in pretura quindi il Consigliatore giudice e il Consigliatore se non arriva poi il Consigliatore e poi un pezzo di giudice di pace il Consigliatore non è questo genere via un po' cosa minore e quindi l'hanno risolta in nove il padre che l'ha fatto pagare chi è benissata anche tu quindi non viene sempre denunziata non viene sempre denunziata ma non viene sempre denunziata ma non viene sempre denunziata che ha parlato come Dio se mi viene a dare il filo che è un piccolo di cose che vuole essere importante non cosa che ha ma mi dà la pena sensazione Ma questo è scontato? Volevano contattati? No, non contattati. Tutti contattati. L'italiano abbiamo imparato il Nicolano. Quindi... L'italiano abbiamo imparato il Nicolano. Questo è tutto. E chi legge tanto? Non si legge, non si crea. L'italiano abbiamo imparato il Nicolano. Quindi... Vediamo tutto il sardo. Quando il Nicolano vuole vedere il sardo, la prima cosa che parlava era. Non parlare in dialetto. Questo non è italiano, questo è sardo tradotto in italiano. Tutta cosa. La costruzione della frase. L'abbiamo ancora il sardo. Perché non ha capito mai. E chi è che non cresce? Capito mai? Questa cosa vuole così. Non serve il caldo. Vabbè, è inevitabile. Vabbè, è inevitabile. Vabbè, naturalmente, chi che deve organizzare, sai, fai l'italiano, fai l'italiano. E quindi, io non lo leggo. No, per tutto contattato, proprio contattato, e di... non lo leggo. Ma per il canone di Germano non hai letto di questo sconto? No. No. Non ho proprio leggo. Hai leggo di questo libro di... di Billonca o di chi sia, no? Ma... non è da me, da me, da. Andare a su dicio. In un totto canale, da una serie di dicio, da me, da. Con un relativo commento, bene e va. Ma ha vinto a tanti di libro che hai. Però contattato voi, non... su un edu, 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 assolutamente non ho mai inteso gruppo. Mai. Non è mai capitato. Poi, se le storie avevano più in Sacra Casa, e se le storie è nata insieme, non vado a sbagliare. Bene. Per esempio, andare. Sono... promuoso, poi già. Lo dico in italiano, ormai, le cose importanti, diciamo che... Se viene in mente qualcosa, magari... Si, esatto. A fare presente... Si, si. Si, qualche cosa importante... A volte, magari parlare... Si, si, si. Se viene da conca senza altro. Ma viene, qualche cosa conca viene di, qualche cosa che sia, che può essere importante, ecco. Si. Non lo conto che ci sia, la sacca che sta andata, che si sa truccare lo sangue. Ma... Va bene. Senza altro. Ma non, 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 non mi valgate una volta questa cosa. No, no. Grazie. Grazie. E così voi arriva proprio in mano, quindi... È gratis.